E' stata una Pasqua caratterizzata da un fenomeno atmosferico particolare, già visto più volte negli ultimi anni, ma mai di quella portata. Ci riferiamo alle polveri provenienti dal Sahara che hanno imperversato per tre giorni in tutto il territorio, facendo schizzare al massimo i livelli del PM10. Ma mentre in altre realtà, come a Roma, il Comune ha disposto il blocco del traffico per contenere in qualche modo gli effetti dannosi delle polveri sottili, nel territorio non c'è stato alcun intervento. Livelli delle polveri sottili mai visti, perlomeno da 20 anni a questa parte, da quando è iniziato il monitoraggio dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. E' stato l'effetto delle polveri provenienti dal deserto del Sahara, spinte dal fortissimo vento di Scirocco, che ha caratterizzato il periodo pasquale in tutta la penisola e ovviamente anche a Civitavecchia e nei comuni controllati dal Consorzio per la Gestione dell'Osservatorio Ambientale. Fenomeno, peraltro, ampiamente visibile in un cielo apparso di colore ocra giallo. Proprio il Consorzio dell'Osservatorio Ambientale, già giovedì scorso, aveva lanciato l'allarme a tutti i comuni che ne fanno parte. Proprio il Consorzio dell'Osservatorio Ambientale, già giovedì scorso, aveva lanciato l'allarme a tutti i comuni che ne fanno parte, attraverso un messaggio apparso regolarmente sul suo sito istituzionale, nel quale poneva l'accento sul livello altissimo, che stando alle previsioni il PM10 avrebbe potuto raggiungere nel periodo pasquale. E le previsioni purtroppo hanno trovato conferma. Basti pensare che nella sola giornata di venerdì 29 marzo, in tutte le centraline di Civitavecchia, il livello delle polveri sottili è stato addirittura più del doppio del livello di allarme stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che ha fissato a 50 microgrammi. Nella centralina di Fiumaretta sono stati infatti misurati 117 microgrammi, in quella del Faro 109, in quella di San Gordiano 112, in Viato Gliatti 128 e a Villalbani 119. Un po' meglio, ma comunque sempre sopra i limiti di legge, la situazione al Porto, dove la centralina ha registrato una media giornaliera di 65 microgrammi. La situazione è leggermente migliorata nella giornata di sabato, coi valori che sono stati comunque altissimi e quasi il doppio rispetto alla soglia di allarme. 113 microgrammi a San Gordiano, 104 inviato gli atti e a scendere, 99 a Fiumaretta, 98 a Villalbani, 95 a Campo dell'Oro e 90 al Faro. Ancora una volta la media giornaliera più bassa è stata riscontrata al Porto, con soli, si fa per dire, 62 microgrammi. La giornata di Pasqua non ha fatto registrare un minimo miglioramento, visto che ha avviato gli atti e la media è stata di 121 microgrammi a San Gordiano di 103, a Villalbani 99, a Fiumaretta e Campo dell'Oro di 98, al Faro di 94 e al Porto di 58. E mentre in altre realtà, come ad esempio a Roma, le amministrazioni comunali hanno assunto provvedimenti di stop al traffico veicolare al fine di evitare un ulteriore sovraccarico di inquinanti, dannosi per la salute soprattutto dei bambini e degli anziani, a Civitavecchia nel territorio circostante invece i comuni non sono intervenuti. È stato ripristinato il Civitavecchia Express, il treno per crocieristi che collega Civitavecchia a Roma. Si tratta di un servizio attivo dal 2019 proprio per cercare di smaltire il forte afflusso, soprattutto di turisti, in alcune fasce orarie. Il Civitavecchia Express resterà attivo fino al prossimo primo novembre. Il servizio? È tornato attivo da ieri il Civitavecchia Express, il treno veloce del regionale di Trenitalia, società capofila del polo passeggeri del gruppo FS italiane, che collega il porto di Civitavecchia al centro di Roma. Resterà attivo fino al prossimo primo novembre e metterà a disposizione dei turisti oltre 700 posti aggiuntivi sulla linea Roma-Civitavecchia. Saranno due corse giornaliere. Il primo collegamento è previsto al mattino con partenza da Civitavecchia alle ore 9.07 e arrivo a Roma-Ostiense alle 10.10. Il secondo nel pomeriggio con partenza alle 16.30 da Roma-Ostiense e arrivo nella città portuale alle 17.20. Il treno a Civitavecchia partirà dal binario Tronco nell'idea di consentire un migliore incarrozzamento ai passeggeri già muniti di biglietto. Entrambi effettueranno una sola fermata intermedia nella stazione di Roma-San Pietro. Il biglietto di corsa singola ha un costo di 10 euro, mentre quello di andata e ritorno 15 euro. I bambini da 0 a 4 anni viaggiano gratis, mentre i ragazzi fino a 12 anni non compiuti non pagano a condizione che siano accompagnati da un adulto. Non sono previsti costi aggiuntivi per i bagagli di grandi dimensioni. Il posto a sedere è garantito e il biglietto è acquistabile presso tutti i canali Trenitalia, ovvero biglietterie, self-service, sito trenitalia.com e app Trenitalia. Un servizio di collegamento veloce istituito nel 2019 per cercare di smaltire il forte afflusso, soprattutto di turisti in determinate fasce orarie. Tra le particolarità del servizio c'è il posto a sedere garantito. A raggiungimento dei posti disponibili per ciascun collegamento, circa 700, la vendita dei biglietti è infatti interrotta. È sempre più guerra aperta da parte delle organizzazioni sindacali del comparto energia nei confronti dell'Enel. Gli ultimi provvedimenti assunti dall'azienda in materia di utilizzo del personale vengono fortemente contestati dai sindacati, che hanno già varato un fitto calendario di scioperi. A provocare l'ulteriore irrigidimento dei rappresentanti dei lavoratori, la pubblicazione dei dati economici del 2023 di Enel, che evidenziano una situazione economico-finanziaria ottimale. È sempre più duro l'atteggiamento dei sindacati di categoria nei confronti dei vertici Enel. Dopo gli scioperi di marzo e quelli già proclamati per il prossimo mese, Filch, MCGL, Fly e Cisle, Wiltec e Wil, tornano all'attacco dopo che l'azienda ha pubblicato i dati economici relativi al 2023, dal quale sono risultati profitti per 22 miliardi di euro, con un più 11,6% rispetto all'anno precedente ed un utile netto ordinario di 6,5 miliardi per un più 20,7%. In un lunghissimo intervento le organizzazioni sindacali chiedono che senso abbia navigare in una ricchezza sconfinata per tutti e contemporaneamente rovinare la vita a migliaia di famiglie. E le famiglie in questione sarebbero quelle dei dipendenti, in particolare, secondo i sindacati, quelle che subiranno la riduzione del lavoro agile e i tagli agli straordinari e alle trasferte. Di contro, attaccano ancora le organizzazioni sindacali, sono stati assunti molti dirigenti, taluni dei quali con stipendi molto alti e altri ne arriveranno e non è corretto che una casta diventi sempre più casta, mentre tutti gli altri debbono vivere economicamente e socialmente in maniera peggiorativa. Per Filch, MCGL, Fly e Cisle, Wiltec, Wil, quello che vorrebbe fare la spa energetica non è contrattualmente impossibile, è umanamente impossibile. Per questo, i tre sindacati invitano l'azienda a rapportarsi realmente con i suoi dipendenti. Anche leggendo e analizzando i commenti che i lavoratori postano sui social, commenti che per le organizzazioni sindacali smentiscono la visione che vuole essere fornita da un'azienda dove convivono benessere, coesione nei rapporti tra persone, bellezza delle relazioni, conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Di qui l'invito alla spa di fare un passo indietro rispetto alle proposte di modifica di una serie di situazioni in ambito lavorativo. Tornate indietro, è l'appello che i sindacati rivolgono ai vertici Enel, solo noi possiamo aiutarvi ad uscire dal vostro errore. Nonostante il tempo incerto, è stata una Pasqua da record in quanto a presenze nei locali e ristoranti del litorale presi letteralmente d'assalto da migliaia di persone, tra i quali anche molti croceristi. A Civitavecchia in particolare si è registrato un pressoché totale sold out che ha interessato soprattutto, e come era inevitabile, i locali che si affacciano direttamente sul mare. Bene anche la giornata di Pasquetta, seppur condizionata da tempo incerto. Anche ieri i ristoranti hanno lavorato a pieno ritmo, anche perché proprio a fronte delle incertezze atmosferiche non sono stati pochi coloro che hanno deciso di rinunciare alla tradizionale gita fuori porta. Sulla A12 Roma Civitavecchia per consentire lavori di riqualifica delle barriere laterali del viadotto Sorbo e del viadotto Infernaccio dalle 22 di domani alle 6 di giovedì sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud verso Roma. Società Autostrade in alternativa consiglia i seguenti itinerari. Per i veicoli leggeri e i mezzi pesanti con massa piano carico fino a 5 tonnellate dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia Nord percorrere la statale Aurelia verso Roma per rientrare sulla A12 alla stazione di Civitavecchia Sud e proseguire verso Roma. Per i mezzi pesanti con massa piano carico superiore a 5 tonnellate e per gli autobus uscire allo svincolo libero di Monte Romano sulla A12 Roma Tarquinia percorrere la statale 1 bis via Aurelia e immettersi sulla statale 675, seguire le indicazioni per vetrarla e procedere sulla statale Cassia verso Roma. È stata convocata per venerdì prossimo alle 10.30 una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Santa Marinella per illustrare alla cittadinanza la nascita della nuova provincia Porta d'Italia che racchiude al suo interno comuni tra i quali Fiumicino, Civitavecchia, Tolfa, Lumiere, Tarquinia e Ladispoli. Il sindaco Tidei spiega che l'Assemblea è aperta ai possibili interventi del pubblico. Rappresenta un passaggio di massima democrazia, di informazione e condivisione di un tema che riveste grande importanza. Dopo aver conquistato la salvezza nel campionato di Serie C1, la Fuzz all'Academy si gode la festa per una stagione che è andata oltre le più rose e aspettative, nonostante qualche momento di difficoltà negli ultimi mesi. La stagione si chiuderà con l'ultima gara del 6 aprile, ma il club Rosso Blu sta già pianificando il futuro per il quale dovrebbe ancora esserci Umberto Di Maio al timone della squadra. Ascoltiamo l'intervista. Umberto Di Maio celebriamo questa salvezza da parte della Fuzz all'Academy che è arrivata con anticipo, anche se non troppo anticipo rispetto a quello che proviamo a aspettarci all'inizio del campionato. Quindi com'è stata questa stagione? Ricca di soddisfazioni anche se c'è stato un momento di scolamento. Sì, abbiamo cominciato alla grande, eravamo a quarto posto in zona play-off. Poi a dicembre è successo il fatto di Fidoni che ci hanno tolto i 6 punti e quindi ci siamo trovati in una situazione di classifica completamente opposta. Essendo una squadra giovane secondo me l'abbiamo pagato a livello mentale. Poi ci abbiamo messo un po' a riprenderci e abbiamo chiuso il discorso salvezza. La squadra ha dimostrato sempre di esserci, ha fatto sempre i complimenti a questi ragazzi, per cui alla fine è stato meritato questo percorso. Tra le partite più importanti quale ricorda, mister Di Maio? La partita secondo me più bella che abbiamo fatto è a causa della prima classifica, dove meritiamo da vincere e abbiamo chiuso con un pareggio. C'è un po' di rammarico perché magari con un pizzico di esperienze a più saremmo arrivati secondo me a play-off. Tanti ragazzi sono messi in mostra, qualcuno si è anche discattato le esperienze precedenti. Mondelli scatenato ha fatto 36 gol. Quindi com'è stato vedere questi ragazzi? Poi chiedo anche una domanda su Mondelli. Come mai è riuscito a descriverci questi alti livelli? Allora per quanto riguarda i ragazzi secondo me c'è stata una crescita esponenziale, tra cui Mori, Tersini, Giocondo, apro parentesi di giovani. Noi con Christian eravamo in zona play-off. Quindi per quanto riguarda lui abbiamo pagato secondo me tanta l'assenza a livello fisico. faceva la differenza. Quindi con lui nel discorso di prima abbiamo perso secondo me una pitina fondamentale senza nulla togliere agli altri. Per quanto riguarda la crescita dei giovani è stata di Saracco, Mancini e Pernelli che ha fatto una stagione comunque al di sopra di quello che ci aspettavamo. E poi per quanto riguarda Mondelli secondo me l'abbiamo messo nelle condizioni di esprimere il suo potenziale. Quindi ho cambiato gioco e ho adattato il gioco alle sue caratteristiche. Lui ha ripagato con 36 gol che sono secondo me un'etormità. Adesso si riuscita a riproporre questa squadra anche con vista Di Maio e Pacchina per la prossima stagione? Guarda, io credo di sì. A questa squadra secondo me ha messo un pizzico più... Magari un giocatore di esperienza secondo me e questi ragazzi potremmo dire la nostra nel prossimo campionato. Siamo a marzo comunque a prezzo però secondo me ci sono buone possibilità che questa squadra rimane in blocco. In attesa che il campionato riprenda con un'altra trasferta, questa volta nella Tana dell'Osimo, proprio in occasione della prossima sfida potrebbe arrivare una buonissima notizia per la NCC Vitavecchia nel campionato di Serie B. Se i Rosso Celesti dovessero violare la piscina dei Pirati saranno aritmeticamente qualificati per i play-off, il primo obiettivo stagionale fissato dalla società. Infatti la formazione di Aurelio Baffetti al momento è a più 12 sul quinto posto che con un successo diventerebbe più 15 a quattro giornate dal termine. Il verdetto potrebbe arrivare anche con un pareggio se la Locatelli non dovesse fare il colpaccio nella vasca del Rapallo. Grande soddisfazione per Eleonora Di Basilio. L'arbitro Civitavecchiese è stato chiamato per dirigere la finale del Trofeo delle Regioni Femminile che si è svolta al polo natatorio di Ostia. L'evento, uno dei più attesi per quanto riguarda la palla nuoto giovanile a livello nazionale, ha visto il successo della Liguria per 13 a 8 contro la Sicilia. Di Basilio, sorella maggiore di Vittoria che gioca con la Nautilus, ha diretto l'incontro assieme al collega Alessandro Carrer. Inoltre l'arbitro aveva già partecipato allo stesso torneo, ma maschile, lo scorso gennaio. Nella stessa manifestazione, sesto posto per il Lazio, dove rappresenta il giovane talento della Nautilus, Serena Van Nicola. Al termine della manifestazione si è disputato il derby romano del Girone, retrocessione di Serie 1 a vincerlo è stato il Visnova di Alessandro Calcaterra e Leonardo Chichini, che si è imposto con una super rimonta per 9 a 8 nei confronti dell'Astra. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio